Una piazza grande Total White ha infatti tornato nel cuore della città la cena in bianco l'evento che dà avvio alla lunga serie di eventi targata a cofcommercio che animeranno la calda estate a retina partiamo da piazza grande con questa bellissima serata in bianco con tutte le nostre attività commerciali e ricettive della piazza coinvolte 800 persone che saranno presenti alla scena ma tutti i visitatori non solo di Arezzo ma da tutto il centro Italia presenti questa sera per inaugurare appunto questo ciclo di eventi che continuerà poi sabato con shopping sotto le stelle Arriviamo da Roma, abbiamo trovato l'evento su Facebook e ci piaceva questa situazione tutta white e siamo partite così L'avevamo visto già l'anno scorso però l'anno scorso non siamo potuti venire allora quest'anno abbiamo deciso che approfittiamo Stamattina abbiamo lavorato e siamo partite per Arezzo e poi si ritorna a casa Arrivata in piazza grande cosa ha pensato? Tutta bianca? Molto bello, bellissima atmosfera, bella la location, un bel effetto Una notte di festa glamour e gusto ovviamente tutto rigorosamente in bianco Nulla in piazza infatti fa eccezione al total white dai fiori a centro tavola, dalle candele alle posate persino alla cena E' la notte clou della nostra estate aretina della Confcommercio e è significativa perché nel corso degli anni è diventato un appuntamento importante che la gente, gli aretini aspettano, un modo per vivere in questa splendida piazza nella nostra meravigliosa città Ma con questa settimana si arriva all'appuntamento importante, diciamo che questa è la settimana dell'apertura dei saldi E voi capite come in una stagione dove il maggio è stato completamente saltato Quest'anno i saldi assumono davvero una importanza straordinaria Quindi ci auguriamo che con questa cena sia di buon auspicio per i saldi Grazie